Stava anche il popolo della famiglia, nel programma della lista di ispirazione cattolica l'abolizione di unioni civili, divorzio breve, testamento biologico, aborto e del decreto Lorenzin sui vaccini obbligatori. Ancora l'istituzione di un fondo di garanzia statale per le giovani coppie che vogliono comprare una casa e niente tasse per quelle sposate che fanno un terzo figlio. Un voto di proposta con la famiglia al centro. Bisogna puntare sui figli perché l'Italia che non fa più figli è un'Italia che muore. La nostra proposta è il reddito di maternità. 1000 euro alle donne italiane che vorranno, dopo aver avuto un figlio, dedicarsi esclusivamente alla famiglia.